Ha chiesto di parlare in dissenso dal gruppo il senatore Paragone, ne ha facoltà. Grazie Presidente. La Germania torna ad armarsi perché nulla sarà come prima. Dopo le armi bianche dell'austerity, a Berlino devono avere pensato che forse è il momento di investire nuovamente in armamenti, ben al di sopra di quel tetto del 2% del PIL usato finora come limite. L'Unione Europea, quell'Unione che ci doveva garantire la pace, quell'Unione che non ha una politica di difesa né una politica estera, ma ha la moneta unica, spende 450 milioni in armi perché l'Europa si fa a colpi di crisi. E magari a colpi di crisi si annette immediatamente l'Ucraina con una dichiarazione che è una bomba sulle trattative, salvo poi ripensarci, ma non abbastanza da fermare il Presidente ucraino nell'annunciare la loro disponibilità. Insomma, diciamo un bel gioco delle parti per continuare a stuzzicare colui che resta l'aggressore, perché Putin ha attaccato arbitrariamente, ma nei confronti del quale si sta ingaggiando da tempo una pericolosa partita puntellata di provocazioni. Nel marzo del 2021 Biden definì Putin un killer, quel Biden padre di un investitore in Ucraina di Gasdotti. Joe Biden era il vice di Obama quando nel 2014 gli USA non perdonarono a Yanukovic il rifiuto di fermare l'adesione all'Unione Europea e quindi strutturarono i presupposti per un colpo di Stato in Ucraina, cancellando le comunità filorusse che pur esistono in quell'area. La strage di Odessa nella casa dei sindacati a opera di fanatici nazionalisti ucraini anti-Putin mosse una indignazione di maniera. Ne hanno trovato eco i 14.000 morti tra civili e militari nel Donbass in sette anni di conflitto. Ma è adesso che bisogna armarsi la Germania, l'Unione Europea e l'Italia che acquisterà armi da consegnare al popolo ucraino, non male come idea di costruzione della pace. Siamo passati da essere il primo corridore della via della seta coi cinesi ai soliti portatori d'acqua in una NATO sulla cui funzione dovremmo aprire una discussione matura, leale, perché così non ha logica. Questo Governo ci propone l'ennesimo stato di emergenza per proseguire sul crinale di un presidenzialismo sgangherato e privo di un controllo parlamentare. Questo Governo ha chiuso gli occhi dinanzi all'articolo 32 della Costituzione creando più danni, dolori e divisioni della stessa pandemia. Non si ripeta tragicamente questo errore, chiudendo gli occhi dinanzi all'articolo 11 e si riprende la nostra vocazione di mediazione internazionale che ha reso il popolo italiano un popolo di fratellanza e amicizia. No allo stato di emergenza, no ad alcun intervento armato, no all'acquisto di armi, no alle sanzioni, sia ad una trattativa vera.